Ciao a tutti, in un mio precedente video ho riportato alcune osservazioni del James Webb Space Telescope che, se confermate da altri studi ancora in corso, potrebbero, e sottolineo il condizionale, costringere a riscrivere i modelli alla base della nascita e dell'evoluzione dell'universo basati sulla materia oscura. Il fatto è che la materia oscura è appunto oscura, non si vede, se non tramite gli effetti che essa induce in ciò che le sta attorno. E quindi, come fare? C'è un modo per osservarla? Lo vediamo subito, ma prima, ricordate che Se mi state ascoltando, siete la resistenza. Effettivamente un modo per osservare la materia oscura ci sarebbe, ma per farlo dobbiamo essere parecchio fortunati o, come vedremo, costruirci questa fortuna. Andiamo con ordine. Che cos'è la materia oscura? In parole semplici è il più abbondante costituente dell'universo, contribuendo alla sua massa per quasi il 90%, ma non producendo radiazione elettromagnetica risulta invisibile se non per gli effetti gravitazionali che induce in quanto le sta intorno. È pur sempre materia, quindi è una massa. In pratica, dunque, osserviamo realmente solo circa il 10% dell'universo. È come se vi regalassero una scatola del peso di un chilogrammo, voi l'apriste immaginando chissà che, e dentro ci trovate solo una pallina da 100 grammi. E gli altri 900 grammi? Boh. Per spiegare quello che non si vede, è sembrato logico, e non solo per questa considerazione, ce ne sono un'infinità di altre, tutte molto concrete, è sembrato logico, dicevo, ipotizzare un nuovo tipo di materia. I fisici la definiscono materia non barionica. Diciamo materia non standard, non fatta di barioni, quali ad esempio i neutroni e i protoni. Una materia che ha bassa o nulla interazione con la materia ordinaria e bassa o nulla produzione di radiazione elettromagnetica, altrimenti nell'una e nell'altro caso l'avremmo vista. Ovviamente, infatti, per essere osservata, questa materia deve interagire con uno strumento di misura, e queste interazioni non solo sono difficilmente distinguibili da quelle di altre particelle, elettroni, fotoni e soprattutto neutroni, ma sono anche molto rare. Ancora più rare delle interazioni, delle più sfuggenti tra le particelle note, i neutrini. Pensate infatti che un fascio di neutrini può attraversare una lastra di piombo di un anno luce di spessore senza praticamente interagire con essa. Un anno luce che equivale a 9.460 miliardi di chilometri. Capite quanto è difficile questa ricerca? Detto questo, veniamo alla ciccia, cioè all'oggetto del video. Su questa materia non standard, non barionica, sono state fatte diverse ipotesi e sono stati immaginati diversi attori. Uno dei protagonisti più probabili in questa marea di ipotesi è l'azione, che non ha carica elettrica, ha una massa piccolissima e tutta un'altra serie di caratteristiche che lo rendono in buona sostanza praticamente invisibile. Ma, e semplifico paricchio, può occasionalmente trasformarsi in fotone ed essere quindi visto. Si chiama effetto Primakov e si ottiene in presenza di fortissimi campi elettromagnetici. Siamo dunque arrivati al punto. Osservare la trasformazione di un'azione in fotone confermerebbe l'esistenza della materia oscura. In altre parole, se vediamo gli azioni vediamo la materia oscura. Se queste particelle esistono sarebbero prodotte in quantità elevate entro i primi 10 secondi dell'esplosione di una supernova, quando la stella collassa in stella di neutroni e gli azioni prodotti dall'esplosione sarebbero trasformati in fotoni gamma dagli intensi campi magnetici della stella. Questo perché le stelle di neutroni sono oggetti molto caldi e producono campi magnetici fortissimi. I campi magnetici più forti nel nostro universo si trovano attorno alle magnetar, stelle di neutroni che hanno campi magnetici decine di miliardi di volte più forti di qualsiasi cosa potremmo mai costruire in laboratorio. Ok, tutto bellissimo, abbiamo un modo facile facile per vedere le azioni. E quindi mi chiedo, dove sta la fregatura visto che finora nessuno le ha visti? Innanzitutto nel fatto che l'esplosione dovrebbe essere nella nostra galassia o immediatamente vicina affinché i raggi gamma prodotti possono essere sufficientemente luminosi e ciò ha una probabilità statistica di verificarsi di un evento ogni 100 anni. In secondo luogo, nel fatto che dovremmo avere un osservatorio gamma puntato proprio nella direzione di quell'esplosione. E l'unico osservatorio gamma che abbiamo in orbita, il Fermi Gamma Ray Space Telescope, ha un campo visivo tale che la possibilità che ciò accada, cioè che sia rivolto dove serve proprio quando serve, è una su dieci. Ci vuole quindi un notevole fattore Q. E solitamente più aumenta il fattore Q necessario, più aumenta l'effetto Murphy. Cioè, più abbiamo bisogno che una cosa accada, più succede qualcosa che non la fa cadere. O che la fa cadere quando non stiamo guardando, o quando non abbiamo gli strumenti per farlo. E non lo dico per pessimismo cosmico, ma perché è già successo. Nel 1987, nella grande nube di Magellano, una delle galassie satelliti della Via Lattea esplose la SN 1987A, l'ultima supernova vicina che abbiamo avuto la fortuna di osservare. E da allora sono passati quasi 40 anni senza altre supernovae all'orizzonte. Ebbene, quell'esplosione avvenne proprio mentre avevamo un osservatorio gamma in orbita, il Solar Maximum Mission, oggi non più attivo, e proprio mentre guardava nella sua direzione. Sfortunatamente, ecco, vedete, era il 1987 e l'SMM non era sufficientemente sensibile per rilevare l'intensità prevista dei raggi gamma derivati dalla trasformazione degli azioni. Ecco, per ridurre l'effetto Murphy, gli stessi autori dello studio propongono la costruzione e il lancio di una costellazione di satelliti dotati di telescopi gamma, chiamata Galactic Axion Instrument for Supernova, o Galaxis, in modo da coprire l'intero cielo osservabile ed essere sicuri che, quando una supernova vicina finalmente si deciderà ad esplodere, essa possa essere certamente vista e dunque studiata nei particolari. Quindi, c'è un modo per vedere la materia oscura tramite la trasformazione azione-fotone, ma questa, se osservata, aiuterebbe tantissimo anche a porre dei limiti alla massa di questa ipotetica particella, che si sposa bene non solo con il modello standard, che descrive abbastanza bene l'universo su larga scala e la fisica delle particelle, ma anche con la teoria delle stringhe, cioè con la meccanica quantistica, e quindi con l'infinitamente piccolo. L'assione potrebbe dunque essere l'anello di congiunzione necessario per la fantomatica teoria del tutto, sognata da Einstein e Hawking, tanto per fare due nomi così a caso. È proprio quest'essere figlio di due mondi, diciamo così, il modello standard della meccanica quantistica, che fa sì che in un forte campo magnetico l'assione si trasformi in fotone gamma. Questo perché, contrariamente ad esempio al neutrino, che delle quattro forze della natura, gravità, elettromagnetismo, forza nucleare forte e forza nucleare debole, interagisce solo con gravità e forza nucleare debole, l'assione interagisce con tutte e quattro. Osservarlo dunque apre una strada verso la teoria unificata del tutto, e quindi diviene uno degli obiettivi più importanti del lavoro dei fisici. Inoltre, la quantità di raggi gamma prodotti nei 10 secondi successivi all'esplosione di una supernova dipenderebbe dalla massa di questa particella, aiutandoci così a stabilirla, o quantomeno a fissare valori più precisi di minimo e massimo, e dunque caratterizzare ancora meglio la materia oscura. Per darvi conto di quanto sia piccola la massa di cui stiamo parlando, il lavoro degli studiosi dell'Università della California Berkeley ipotizza che l'osservazione dei raggi gamma da eventi come quello descritto qui consentirebbe di identificare l'assione se la sua massa fosse superiore a un decimiliardesimo della massa dell'elettrone, che a stavolta è già quasi 2000 volte meno di quella del protone. Cioè, parliamo di misure di una sensibilità persino difficile da immaginare, eppure potremmo essere in grado di farle. E questo dovrebbe far capire agli scettici della scienza quanto sia complesso, prima teoricamente, poi tecnologicamente, verificare certe idee. Diamo le fiducia una volta tanto. Ciao, da Mitiche Stelle.